La sagra del ciuscello evoca un'antica tradizione che riguardava le famiglie durante la cottura del pane. Si faceva questo ciuscello che era un pezzo di pasta per provare il pane. Chiaramente nell'antichità veniva farcito dalla povertà, da sugni e pepe noi l'abbiamo rivalutato e noi facciamo delle farciture con salsicce e patate, frangetta, calvanone, quindi abbiamo rimodernato questa parte, però abbiamo conservato questa parte della tradizione contativa che prevedeva il ciuscello come una sorta di preparazione alla cottura del pane.